Come ti chiami? Davide. E mi spieghi il tuo progetto, il nome? Allora, il progetto si chiama Photosurvey e sostanzialmente vuole rivoluzionare il modo di fare survey, quindi magari avere una realtà un pochino più oggettiva, quindi introducendo le fotografie e fare delle survey che possano dare delle informazioni nuove, che ad oggi non si trovano nelle classiche survey fatte in maniera tradizionale. Ok, ti ringrazio, buona fortuna. Grazie.